Identificato e denunciato alla procura della Repubblica di Trapani, l'uomo che al volante di una Toyota Yaris avrebbe volontariamente investito ed ucciso un cane nella via Vallenuscio di Alcamo. Si tratta di un pensionato di 70 anni che avrebbe un appassamento di terreno nella zona. Ad inchiodarlo, la immagine della videosorveglianza, l'uccisione di Nina, un meticcio di 4 anni, ha sollevato un moto di indignazione e non solo ad Alcamo. Un episodio drammatico e crudele, dice il sindaco Domenico Surdi, che va sicuramente condannato. Prendiamo atto che la Lega di Protezione del Cane ha sporto denuncia contro chi ha commesso questo ignobile gesto. È necessario che sia fatta chiarezza e che sia resa giustizia alla povera Nina, dice il sindaco Domenico Surdi. Era una cagnolina buona con un passato difficile che viveva libera ma accudita dalle volontarie dei volontari della Lega Nazionale del Cane, che non le facevano mancare nulla. Poi è arrivato un'auto che l'ha investita. Non consideremo che chi guida quella vettura la faccia franca e ci batteremo per dare giustizia alla dolce Nina, anche costituendoci parte civile. Invitiamo il sindaco a fare lo stesso per dare un segnale di tolleranza zero verso ogni tipo di violenza. Questa è la nota di associazione animalista. Le sei associazioni animaliste hanno organizzato per lunedì prossimo alle 17.30 in Piazza Ciullo una manifestazione dal titolo Giustizia per Nina, uccisa senza petà. Nina, di quattro anni, era stata data in affidamento dal comune a Gabriele Bongiovanni, istruttore volontario cinofilo che l'aveva accudita fino al giorno in cui è stata investita, sembra volontariamente. Il cane, con altri due, erano ospiti e accudite nello stesso deposito di imbarcazione di Gabriele Bongiovanni. L'investitore rischia da quattro mesi a due anni di reclusione.